Ok, andiamo Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Alla rotatoria, prendere la seconda uscita Uscire adesso Alla rotatoria, prendere la terza uscita Uscire adesso A destra Alla rotatoria, prendere la torta Tenersi a destra E poi uscire a destra Uscire a destra Alla rotatoria, prendere la torta E poi uscire a destra Tenersi a destra E poi voltare a sinistra Voltare a sinistra Alla rotatoria, prendere la torta Voltare a destra 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 Grazie.